La famiglia reale si è riunita per rendere un toccante tributo al defunto principe Filippo in un documentario che andrà in onda su BBC One alla fine di questo mese. Ma rischia di essere oscurato dai continui problemi legali del principe Andrea. In una clip commovente, il principe Carlo afferma. Siamo stati fortunati ad averlo per quasi cento anni. Il documentario era originariamente destinato a celebrare quello che sarebbe stato il centesimo compleanno del Duca di Edimburgo a giugno, due mesi dopo la sua scomparsa il 9 aprile. E presenta clip della collezione cinematografica privata della regina mai viste prima dal pubblico. Per la prima volta nella storia, più di una dozzina di reali appariranno nello stesso programma in Prince Philip, The Royal Family Remembers, che sarà trasmesso alle 21 di mercoledì 22 settembre su BBC One. Tutti i figli, i nipoti e gli altri membri della famiglia della regina e del principe Filippo hanno accettato di prendere parte allo speciale tributo, alle interviste prima e dopo la morte del Duca per quello che la BBC descrive come Un ritratto senza rivali di un uomo con un posto unico nella storia reale in un trailer pubblicato ieri, il principe William afferma, è sempre stato un'enorme presenza dietro tutto ciò che abbiamo fatto davvero. Il principe Harry aggiunge, quello che vedi è quello che hai con mio nonno. Era lui senza scuse. La figlia della principessa Anna, Zara Tyndall, lamenta la sua scomparsa, dicendo, non ti prepari mai a perderlo perché è sempre stato lì. Filippo è stato il consorte reale più longevo nella storia britannica. Sposò l'allora principessa Elisabetta il 20 novembre 1947 nell'abbazia di Westminster, e rimase lealmente al suo fianco per più di sette decenni. Punto. I videoclip raramente visti nel trailer mostrano Filippo in un ambiente familiare, giocando con i giovani reali durante un picnic, su una barca a remi e, con loro enorme gioia, andando lui stesso in bicicletta da bambini. Alla troupe del documentario è stato anche concesso il permesso di intervistare lo staff di lunga data del Duca, oltre a poter filmare all'interno del suo studio, ufficio privato e biblioteca a Buckingham Palace, lasciati esattamente come erano durante i suoi straordinari 70 anni nel cuore della vita reale.